Ciao Giuseppe, sono Gaetano, lo Iacon, della zona di Cremona. Ti volevo far vedere il mio allevamento, ho iniziato da poco, da novembre, e sono in questo campo, seguo molto i tuoi video. Qua ho dei cardellini Maio e Agata, anche qui c'è un'altra bellissima coppia, ancestrali. Anche qui c'è un'anestrale e un opale, colpatore di Agata. Qua c'è un'anestrale Orrasekop. Qua c'è un'anestrale, un Bruno Pastello, colpatore di Bruno Pastello. Qua c'è una femminuccia da sola, ancestrale, e volevo provarla e bridarla con un arlecchino. Ho fatto tutti i cardellini, ancora no, ma i canarini hanno fatto tutte le uova, no? Qua c'è un'anestrale. sto cercando di imparare a capire quali sono le baglie migliori per i cardellini lei ha già fatto una cucciolata lei ha fatto fatica a fargliele fare le uova questi qua sono i pulli che mi sono già nati tre sono di loro che ne hanno già altri quattro qui e uno è di loro che ne hanno già un altro poi ci sono loro che ho fatto fatica a farle copiare litigavano dividendolo rimettendolo insieme dividendolo sono riuscito seguendo i vostri video anche loro ci sono è nato da poco ci sono anche loro questa qua non si sposta manco molto eh no? non ti sposti mai tu? viaggerò le questa la divicherò ruota dai pulli insieme a questa che c'è già e anche quella e niente ti auguro una buona domenica qua ci sono le griglie di scorta che io levo le con le sporche ho messo un lavandino apposta grosso che ci stanno dentro le metto a bagno le lavo con la candeggina e di essere 33 e poi metto quando le ho pulite le rimetto là in alto pronte a essere cambiate ho i vassoi di scorta per sostituire quelli più sporchi per lavarli con calma e niente questo è il mio piccolo mini allevamento che un indomani ho il progetto di far diventare una grossa voliera qua c'è l'aceto di miele per i bagnetti qua c'è la carta che uso per mettere e niente ti saluto e vi auguro una buona domenica a tutti e vi auguro una buona domenica a tutti